Domani undicesima giornata di campionato di Lega Pro vedrà scendere in campo in trasferta il Vicenza di Mister Colombo contro il Sud Tirol, formazione che proprio Alberto Colombo nella scorsa stagione ha guidato nelle ultime nove partite. Di certo anche se gli avversari non paiono così ostici, gli spiriti dei giocatori sono ben diversi, con gli altoatesini reduci da due match a zero reti subite, mentre i vicentini hanno ancora freschi tre gol subiti contro la Triestina lunedì. Certo domani gli undici dell'Ane devono ritrovare la giusta rabbia e la giusta voglia di vincere a tutti i costi. Fischio d'inizio alle 14.30 allo Stadio Druso di Bolzano.